Questa scritta, che un tempo compariva spesso all'ingresso delle banche, diventerà sempre più rara sino a scomparire. Compiere una rapina all'interno di un istituto di credito italiano è ormai praticamente impossibile, neanche con un'azione di tipo militare, nemmeno per la banda più sanguinaria e priva di scrupoli, semplicemente perché in banca non esiste più denaro in contanti alle casse e né i dipendenti e nemmeno il direttore sono nelle condizioni di aprire la cassaforte. Ecco perché la rapina compiuta da un ragazzo di 24 anni, a volto scoperto e con un coltello, all'interno di una filiale di brindisi della Banca Popolare Pugliese è apparsa più il gesto di uno sconsiderato, forse con problemi psichici o da astinenza da stupefacenti, che è un'azione logica, infatti è riuscito a portare via meno di 50 euro e all'uscita è stato pure arrestato. Da qualche anno le banche si sono dotate del sistema detto cash in, cash out, attraverso il quale il dipendente inserisce le banconote depositate dei clienti in una sorta di cassa automatica blindata scomparsa e nel caso di prelievi effettua l'operazione inversa e quella cassaforte non può essere aperta. Le organizzazioni criminali hanno così ripiegato su due sistemi alternativi, il primo più comune è quello di far esplodere i bancomat esterni agli istituti di credito con la tecnica della marmotta, ossia inserendo una carica nella fessura dalla quale si prelevano le banconote. In Puglia, dall'inizio dell'anno, tra le province di Foggia e della BAT, si è registrato il record nazionale di furti con esplosivo, tanto che le poste hanno deciso di chiudere gli sportelli dalle 23.30 alle 6.30 del mattino successivo. Il secondo sistema, molto più rischioso, è quello degli assalti ai furgoni portavalori, anch'essi frequenti soprattutto nel nord della Puglia. Sia per i bancomat che per i portavalori, si stanno studiando sistemi sempre più sofisticati per fare sì che le banconote diventino inutilizzabili anche nel caso in cui siano portate via dai malviventi.